La nuova programmazione della SOP spagnola Le anticipazioni del Segreto diffuse da Mediaset annunciano che dal prossimo giovedì 1 dicembre 2016 risulta sospesa la messa in onda della puntata serale del Segreto. L'episodio speciale di 2 ore lascerà spazio alla nuova stagione di Zellig, lo show comico condotto da Michel Unziker e Christian De Sica che ridurrà ad una sola puntata settimanale la programmazione in prime time della SOP spagnola. L'appuntamento con tutti i fan del Segreto, quindi, rimane confermato dal lunedì al sabato in Daytime alle 16.10 e poi la domenica sera alle 21.15. La puntata serale è stata confermata anche per tutto il mese di dicembre 2016 e poi a gennaio 2017.